A Sant'Agapito, in località Pietradonata, in via di ultimazione un edificio scolastico intercomunale che ospiterà i bambini delle scuole dell'infanzia e della primaria di Longano, Castelpizzuto e naturalmente Sant'Agapito. Il plesso risponde ai più moderni criteri in materia antisismica, di efficientamento energetico e più in generale di sicurezza. Quasi ultimate gli interni. Entro marzo sarà tutto pronto, hanno annunciato gli amministratori dei citati comuni nel corso del sopralluogo di questa mattina. Nell'occasione l'invito dei sindaci e genitori ha lo scopo di informarli che a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico il plesso sarà aperto ed in grado di diventare la nuova casa scolastica per tanti piccoli studenti. La capienza è di 280 posti. Finalmente oggi possiamo dire che l'opera si sta quasi ultimando, si tratta di sistemare un po' l'esterno, qualcosa internamente ma siamo pronti per poter aprire il polo scolastico appunto nel prossimo 2018-2019, cioè a settembre. Abbiamo nell'interno della struttura, al di là delle aule didattiche, abbiamo la menza scolastica, abbiamo un'attività ludica nell'interno che c'è una mini palestra che andremo poi ad attrezzare. All'esterno ci saranno giochi, campetto di campo polivalente, più giochi per bambini, visto che si tratta anche di scuola dell'infanzia. Abbiamo tantissime altre cose che comunque sono già nella progettazione. Io la definirei caparbietà amministrativa perché nonostante le mille vicissitudini, noi siamo partiti con questo progetto nel 2010 e fra migliaia di avversità siamo riusciti oggi a concluderlo. Il rapporto tra i comuni, la collaborazione tra i comuni è stata fondamentale per questo tipo di risultato e purtroppo, voglio sottolinearlo, anche la poca partecipazione di alcuni enti, il poco sentire di qualche comune. Il riferimento del sindaco di Longano è a Disernia, lo sfilarsi di quel comune all'epoca dell'amministrazione brasiello che aveva puntato tutto sulla riqualificazione della San Pietro Celestino causò infatti un brusco rallentamento dell'iter. Un anno e mezzo fa la posa della prima pietra, anche allora presente, il prefetto di Disernia, Fernando Guida, ha ricordato proprio quell'occasione, evidenziando la celerità dei lavori. Mi piace sottolineare che quando venni qui il 12 di agosto, me lo ricordo ancora, del 2016 appoggiare la prima pietra di questa scuola è distante solo un anno e sei mesi, cioè dal momento che viviamo oggi. Quindi è un esempio di come la pubblica amministrazione, quando vuole, sa essere particolarmente efficiente. Anche se qualche polemica non è mancata relativa alla presenza nell'area di una discarica indiscrezione rivelatasi infondata e prontamente smentita anche stamane, quella che conta ora per i genitori è la disponibilità di una struttura moderna ed efficiente e soprattutto sicura in cui mandare i propri figli. Sono molto contenta di aver visitato la struttura perché è una struttura nuovissima, secondo tutti i canoni della sicurezza che sono stati rispettati. Io sono proprio di Santa Capito e porterò il mio bambino, Edoardo Antonio, a settembre, quindi inizierà qui questa sua nuova avventura scolastica. Certo, soprattutto con gli ultimi fatti di cronaca che purtroppo sono successi negli ultimi anni, quindi chiunque vuole mandare i propri figli in un posto sicuro, stare lì tranquilli e pensare che i bimbi possano frequentare in piena sicurezza.